Abbiamo organizzato queste iniziative per affermare la nostra proposta alternativa rispetto a quella che è la logica massificante della grande distribuzione e di una filiera lunga che spropria l'agricoltore rispetto a quello che è il suo legame col territorio e che penalizza in qualche modo la qualità del prodotto. Quindi questa è un'ennesima iniziativa dell'UNCI per affermare il concetto di cooperazione e di cooperazione all'agricoltura, cioè di un legame del socio della cooperativa che può essere agricoltore o lavoratore con il proprio territorio, con il proprio prodotto e quindi con la comunità che insiste su quel territorio. Quindi le due iniziative che abbiamo organizzato oggi, quella sulle sementi e quella sulla colza e sul biodiesel, costituiscono una valida proposta a mio avviso per dire agli agricoltori che è possibile un futuro cooperativo.